Oggi vi parlo di un libro terribile, ma sono contento di averlo letto. Sigla. Un libro terribile non nel senso che è un libro scritto male, ma nel senso che è veramente un libro che è duro da mandare giù. È uno di quei libri che, mentre lo leggevo, non potevo fare a meno di evitare di pensare a se questo è un uomo e a quel tipo di libri di letteratura che fanno capo ai lager nazisti. Non che il tema sia questo in nessun modo, ma è comunque un libro che mi ha provocato quel tipo di emozioni, diciamo così, e sto parlando di Cecità di José Saramago. Scritto nel 1995, Saramago vincerà il Nobel nel 1998, sicuramente non solo grazie a questo libro, ma sicuramente questo libro è quello che probabilmente ha dato l'impulso più forte. Di Saramago non vi dirò niente se non alla fine. È un discorso su alcuni aspetti, alcune controversie, per così dire, che lo riguardano, che riguardano appunto la sua visione religiosa, la sua fede politica e così via, ma questo ve lo dirò alla fine, perché questo è un video che sarà sicuramente molto lungo, molto denso, molto complesso da fare, quindi è prevedibile che io prenderò strade laterali, tangenti varie, non lo so, mi leggerò, mi userò le note che mi sono scritto nel testo per orientarmi, ma comunque sarà un video probabilmente disordinato, perché è un libro che mi ha generato moltissimi pensieri. Ero tentato di girare questo video completamente al buio, ma a parte che ho la finestra e quindi mi entra a luce e non posso, ma sarebbe anche giusto che questo video fosse solo voce e non voce e immagini. Probabilmente metterò uno schermo nero quando farò le letture, perché mi sembra che renda meglio l'idea. Cecità di Saramago non è un romanzo di fantascienza, non è un romanzo, non è fantascienza nel senso che quest'idea, che tutti abbiano questo male bianco, questa cecità bianca di cui poi vi dirò, non è legato alla fantascienza perché non è niente di scientifico, non viene spiegato come questa malattia colpisce il genere umano e quindi è un romanzo che appartiene al fantastico, al genere fantastico, dove c'è un elemento di fantasia. Chiaramente tutto questo porta a un discorso distopico, a una realtà distopica e tutto questo è fortemente impregnato di filosofia, di spiritualità. È un libro fortemente spirituale per quanto Saramago sia ateo. È curiosa questa cosa, un libro molto spirituale è lo stesso, il Maestro Margherita e Bulgakov era ateo. Un libro spirituale è questo di Saramago. La spiritualità e la religione sono due cose molto diverse. Non fate confusione, non facciamo confusione. È un libro ricco di spiritualità, ricco di filosofia. Per quanto riguarda la visione filosofica che riguarda il concetto di Homo homini lupus, vi rimando al video che metterò qua in descrizione di Scripp di Ermanno Ferretti che è un professore di storia e filosofia che fa dei video bellissimi, a volte fa questo book club filosofico letterario dove parla di alcuni libri che sono pieni di filosofia. Così come c'è un altro video di quelli che ho cercato perché volevo saperne di più dopo che l'ho letto, per avere un po' di idee, per vedere se quello che avevo visto, letto in questo romanzo poteva essere giusto o sbagliato, confrontarmi anche con le idee di altri, ma non ho trovato niente di così importante o di così complesso, tranne un altro video di Martina, quella di Ema in the Books, che ne ha parlato per una mezz'oretta e ha fatto un video molto bello, anche se alcune cose secondo me le ha mancate, sono alcune cose che o meglio le ha mancate. Magari non ne ha parlato più un libro talmente cosmico ci si può parlare per giorni e discutere per giorni, ma alcuni aspetti magari le ha tralasciati, sono degli aspetti che a me hanno colpito in particolare probabilmente, anche il suo lo metto qua in descrizione, non li taggo perché non me ne frega niente di visibilità di queste cose, non mi interessa, ve li taggo qua sotto perché forse sono video che potranno essere da corollari o completare il discorso che vi farò io e che potrebbero interessarvi se avete amato questo libro, magari li conoscete già per carità. Vi dico che questo video che faccio oggi sarà un'analisi, una vera videoanalisi e non sarà una recensione, quindi ci saranno spoiler, io la trama ve la accennerò, ve la disegnerò a grandi linee, ma tenete conto che se non avete letto questo libro e siete qua e volete evitare di sapere il finale, come si svolge eccetera, io metterò come al solito la dicitura spoiler nei vari capitoli, anche la spoiler alert quando parlerò di qualcosa di sensibile per quanto riguarda la trama, cosa che in sé è abbastanza inutile perché vi ripeto, io di questo libro sapevo praticamente tutto e l'ho comunque letto con estremo piacere, tra virgolette piacere, nel senso che è un libro che va sopportato, che va, non so come dirvelo, va tollerato in un certo modo, è un libro difficile, è un libro difficile per tanti motivi. Io vi faccio vedere qua la copertina che ho sul Kindle, che forse è la copertina più bella, ce ne sono altre, è l'ultima, l'edizione più recente in Feltrinelli, e poi vi dirò perché in Feltrinelli è un'edizione dove si vede la scena che apre il romanzo, cioè quella di un incidente e un uomo che esce dalla macchina. Invece questa immagine qua, che vi metto chiaramente, le immagini ve le metterò come al solito qua a fianco, è un'immagine che rende molto bene l'idea di quello che è cecità, ovvero in tutta la città, in tutto il mondo probabilmente, questo non lo sapremo mai, ma nella città, che è facile individuare con Lisbona perché Saramago è, o forse lo dice proprio che Lisbona perché Saramago è chiaramente portoghese, l'unica persona rimasta nella città o nel mondo che vede veramente, che ancora conserva la vista, è una donna, è la moglie di un medico, la moglie di un medico oculista. E quindi vedete che in questa immagine c'è una donna che è il capofila, l'unica a colori, l'unico personaggio disegnato a colori, mentre tutti gli altri hanno una mano, ognuno sulla spalla di quello che li precede, per tenersi, per mantenere la posizione, non disorientarsi e non perdersi quando si cammina, cioè la donna, l'unica donna che vede è quella che fa guida al genere umano, o meglio a una compagnia di un certo numero di persone che si troveranno, per varie vicende che adesso è inutile esplicare, si troveranno a vivere con lei. La vicenda, molto brevemente, un cenno di trama. Siamo a Lisbona, c'è una macchina ferma al semaforo in quest'incipit micidiale che forse, più avanti vi leggerò, c'è una macchina ferma al semaforo e quest'uomo che alla guida della macchina improvvisamente non vede più, vede solamente un... invece, sapete, i ciechi, chi non vede, vede nero, nero profondo, non con quelle lucette, quei puntini di colore, nero, nero totale, nero assoluto. Ecco, questa cecità è diversa. Chi diventa cieco del mal bianco cosiddetto, vede una luce bianca accecante tutto il tempo bianco, un bianco sparato. Quest'uomo che ha il volante, vede improvvisamente il bianco, non puoi più guidare, si ferma, non ci vedo, non ci vedo, si ferma, blocca il traffico. E da lì parte una serie di aiuti, tra virgolette, un uomo lo aiuta, lo porta con la macchina, la posteggia, lo porta fino a casa sua e poi quest'uomo gli ruberà la macchina. E cosa succede? Però succede che questa è una vera epidemia, non si saprà mai, perché Saramago non lo dice, se sia una vera epidemia, nel senso se sia una malattia infettiva, se sia una malattia degenerativa, una malattia cerebrale, non si sa quale sia il motivo di questa cecità bianca, di questo male bianco, che colpisce uno dopo l'altro praticamente tutte le persone, ma inizialmente il male è circoscritto a questo uomo nella macchina che va dal medico, dal medico, dall'oculista a farsi vedere e anche l'oculista diventa cieco. Quelle diverse persone che entrano in contatto tra di loro diventano cieche, come se questa fosse una problema di infezione, una sorta di contagio, cosa che in realtà non è del tutto chiara, perché una volta che le persone vengono presi ciechi, vengono presi e isolati in un carcere che era un ex manicomio e messi in vero isolamento, gli viene passato il cibo attraverso le sbarre, gli viene lasciato proprio in un punto e loro da ciechi devono andare a cercarselo. Questa epidemia colpisce piano piano tutto il mondo, finché vi spiego cosa succede alla fine dopo le estreme vicende che sono quelle che riguardano la distopia e diciamo come il mondo sarebbe se tutti noi diventassimo improvvisamente ciechi, quindi una situazione orrenda e ingestibile che sostanzialmente con tutta probabilità coinciderebbe con l'estinzione della razza umana, come poi più tardi vi dirò, ecco questo male finisce per autorisolversi e quindi le persone piano piano riprendono a vedere, in un finale che io francamente vi dico una cosa velocemente sul finale e poi lo riprenderemo, mi aspettavo un tipo di finale completamente diverso. Non è un finale disperante, al contrario è un finale che dà speranza, ma nel contempo è amarissimo per le parole che la moglie dell'oculista, la moglie dell'indottore, dirà infine del romanzo di cui vi parlerò. Capite che il fatto che improvvisamente tutte le persone o le persone con cui ci si trova contatto diventino cieche comporta che alcune cose, siamo negli anni 90, quindi quando è stato scritto siamo contemporanei, ci sono i telefoni, ci sono le automobili, ma non è spiegato veramente un tempo e se ricordo bene non ne sono sicuro neanche un luogo esplicitato veramente in questo romanzo, forse è Lisbona, accettiamo che sia Lisbona, scusatemi se sto sbagliando. Il tempo non è specificato, ma alcuni, l'epoca, l'anno in cui si svolgono i fatti, ma alcuni segnali lasciano pensare che siamo in un'era comunque contemporanea, ci sono le automobili, automobili vere, che vengono parcheggiati ai lati della strada, ci sono i telefoni ma ancora non ci sono i cellulari, ci sono le radio, ci sono le televisioni che chiaramente non hanno più senso e così via. Quindi diciamo che siamo tra gli anni 80 e gli anni 90, mettiamola così. Vi ripeto, il fatto che tutti gli esseri umani non vedano chiaramente crea un blocco a tutti i livelli, non può essere più utilizzata, le centrali idroelettriche non funzionano, niente funziona perché se uno non vede i comandi che deve fare non legge sui monitor, non può leggere, non può sostanzialmente mandare avanti l'umanità e questo comporterà che il mondo si ferma. Quindi subentra anche una serie di condizioni igienico-sanitarie terribili come per esempio il fatto che non essendoci più le fognature, non funzionano, le persone non riconoscono più casa loro, il mondo è apolide, senza città, senza una casa. E quindi sostanzialmente il mondo viene sommerso di feci, di escrementi e quindi capite che il semplice fatto di non avere una casa, di non sapere dove andare, di non riuscire a trovare il bagno quando ti scappa, ha creato un pantano maleodorante in tutta la superficie emersa del mondo. Il fatto che, continuo con la trama velocemente per farvi capire che cosa succede a grandi linee e poi come si evolverà la storia. Il fatto che i non vedenti, i ciechi, il male bianco colpisca delle persone, queste persone vengono prese dalla polizia, dal sistema che improvvisamente diventa una sorta di dittatura o meglio di stato di guerra, stato di necessità, il governo decide misure estreme, straordinarie, come in una catastrofe. Fate conto il Covid, va bene, quel tipo di decreto del Presidente del Consiglio eccetera. Vengono presi e chiusi in un vecchio manicomio, un sanatorio, non mi ricordo un manicomio, comunque una struttura dove vengono messi in delle vere e proprie celle. Vengono incarcerati e in ogni cella ci sono un tot di letti e qui vengono buttati questi ciechi richiusi in diverse celle in questa struttura che ha delle ali, un corridoio a destra, una sinistra e così via. In ogni cella ci sono 8, 10, 20 persone accatastate accatastate lì, quando una cella è piena ne usano altre e poi via via le celle diventeranno sovraffollate. In questa situazione cosa succede? Che i militari che sono fuori a presidiare, che questi ciechi non escano perché il primo che esce sono le persone che vedono, sono terrorizzate, capite, dall'idea di essere contagiati. Fate conto veramente un Covid senza possibilità di terapia. Chi ti si avvicina e ti contagia ti fa diventare cieco col male bianco. Quindi militari che uccidono le persone che si avvicinano, che non capiscono dove vanno. Cibo che viene lasciato là e viene detto vai a prendetelo. Le radio, gli altoparlanti di questo istituto che comunicano dei messaggi che spiegano come si farà, cosa si farà, come se fosse il grande fratello. Mi capite? Questo messaggio che viene ripetuto tre volte al giorno, un po' come se fosse neanche nei lager perché questi messaggi non c'erano, ma capite? La situazione è quella. Di reclusione, di obbligo di vivere in questa condizione disumana. E chiaramente cosa succede? Che le persone che sono là dentro iniziano a combattere per riuscire a recuperare il cibo che viene lasciato in una zona comune e poi i cecchi devono andare a strisciare in mezzo alle feci, in mezzo a tutto questo pantano che si sta creando per trovare il cibo e portarlo nella loro cella e dividerselo in qualche modo. Ci saranno quelli che fanno la cresta, quelli che rubano, i più furbi e c'è chiaramente una cella dove c'è un uomo che ha una pistola con 6-8 colpi, non ricordo. E quest'uomo diventa improvvisamente il più potente di tutto l'istituto. Quello che decide che si accaparra tutto il cibo, perché il cibo veniva distribuito lasciato in una zona vicino alla cella di questo gruppo di persone che si prendevano tutto il cibo e hanno creato un racket degli alimenti. Il che vuol dire che se tu volevi mangiare dovevi pagare in qualche modo. E chiaramente il pagamento avverrà in natura, cioè l'uomo, l'essere il maschio che aveva la pistola, che era il capo di questa cella, di questo clan possiamo dire, vuole un pagamento in natura, cioè vuole che le donne delle celle vengano e si prestino sessualmente a tutte le loro più terribili perversioni. Capite? A rotazione. Siccome c'erano diverse celle, diversi gruppi di carcerati, diciamo così, ogni giorno, ogni tot giorni si cambiava celle in modo da avere sempre carne fresca, per così dire. Insomma, una situazione di abiezione dell'essere umano gigantesca, tutta questa condizione porterà poi a una sorta di rivolta e chiaramente l'elemento chiave sarà la donna, la moglie del medico, la moglie del dottore, che è l'unica che vede, che chiaramente tiene nascosto questo suo elemento di capacità ancora di vedere, e questo la rende, sapete, nella terra dei ciechi l'orbo è re. Lei è una regina, perché non solo è orba, ma vede con due occhi. Però questo le fa vedere veramente un mondo terrificante, in più punti lei dice vorrebbe essere cieca, perché vedere, ripeto, il mondo inondato di feci, di urine, la disperazione degli uomini, questi uomini tutti strapati a brandelli, spesso nudi, succedono delle cose che fanno capire come nell'oscurità, nel non essere visti, l'uomo veramente diventa al pari di un animale. Il suo stesso marito sbaglierà, tra molte virgolette, il letto in cui curicarsi e andrà a fare l'amore sostanzialmente con una ragazza dagli occhiali scuri che era la più bella della stanza, che era una sua paziente tra l'altro, che aveva un'infezione, una congiuntivite, quindi voleva il collirio, anche se non vede. Ci sono una serie di cose, ripeto, non posso parlarvi di tutto e può essere che sarà un video disordinato, ma ci sono talmente tante cose in questo libro su cui riflettere, su cui pensare, che non se ne esce più. Insomma, la condizione dell'essere umano, però, vista attraverso gli occhi molto spesso, dell'unica donna, la moglie del dottore, che è quella che vede. Il fatto che loro non vedano più rende anche la condizione estremamente particolare, estremamente affascinante in questo senso l'idea di Saramago, che i nomi non hanno più senso. Il nome proprio non ha più senso, perché tu diventi solo voce. E allora Saramago non mette dei nomi, perché non può dire Luca, Mario, Giuseppe o Alfonso, perché sono tutte persone che se tu non vedi non puoi dire quello Alfonso. Puoi riconoscere una voce, allora chi diventi? Il dottore, la moglie del dottore, il ladro dell'automobile, il vecchio orbo, uno che aveva una benda sull'occhio, gli mancava un occhio, scusate, la ragazza con gli occhiali scuri e così via. C'è un ragazzino che ha perso la mamma inizialmente, un bambino inizialmente cerca sua mamma tutti i giorni e chiaramente c'è questa separazione dalla madre che è dilaniante, che è terribile, perché questo bambino, un bambino piccolo in continuazione chiede di sua madre dov'è, dov'è, non si sa se sia morta, se sia incarcerata, dove l'abbiano messo, è stato strappato da sua madre e buttato insieme a questa cella di perfetti sconosciuti. Cosa che in gran parte mi ha fatto pensare, vi ripeto, c'è qualcosa che mi richiama molto il nazismo e quella situazione dei lager, anche se il movente che c'è alla base è diverso, perché questi sono dei malati, anche se, se vogliamo dirle in modo brutale, forse per Hitler gli ebrei erano dei malati, degli esseri inferiori da isolare e da eliminare, per cui forse il parallelismo non è neanche così sbagliato. Stiamo parlando di un libro veramente, veramente terribile, ci saranno delle vicende in cui a un certo punto cosa succede? Questa è la prima fase, la prima metà del libro, il primo atto, possiamo dire, è la nascita di questa malattia, la scoperta della malattia e la creazione del male bianco. Il secondo atto è quello in cui i malati ciechi vengono chiusi nell'istituto, nel penitenziario, diciamo così. La terza fase è quella in cui tutto il mondo viene ammalato, quindi anche i militari, le guardie, i politici, tutti si ammalano, non vedono più niente e quindi improvvisamente spariscono i militari che controllavano l'ingresso, che sostanzialmente tenevano in carcere i ciechi e a questo punto si aprono le gabbie e le persone sono libere di andare in giro per il mondo e quando escono dal carcere c'è la terza fase che è quella in cui questi ciechi si fanno condurre, come vi ho detto, dalla moglie dell'oculista alla moglie del dottore in giro e lei vedrà tutto l'orrore di questo mondo. I ciechi dovranno trovare un posto dove dormire perché tutta Lisbona a questo punto in strada e cerca soprattutto roba da mangiare perché non hai più la chiave di casa tua, anche se la chiave di casa tua non la puoi trovare perché come ti orienti in una città senza sapere dove eri? Come trovi la strada di casa? Non puoi guidare, non puoi fare niente. Quindi si ferma tutto, il traffico, la metropolitana, l'acqua, la sanità pubblica, tutto fermo e chiaro che muori. Nella civiltà moderna senza occhi muori, anche in quella passata sicuramente. E quindi la fase 2 è quella dove sono in strada e devono sopravvivere agli stessi uomini, da cui uomo, homini, lupo. Lupus, scusate, cioè vuol dire l'uomo e lupo per l'uomo stesso, cioè l'uomo diventa cacciatore dell'uomo stesso, il nemico peggiore dell'uomo è l'uomo. E capite che questa cosa è vera, infatti quello che succede poi è che loro cercano da mangiare, la donna troverà un grande magazzino, un supermarket dove poi non c'è più niente, ma trova perché lei vede la porta scorrevole, lo scantinato va giù nello scantinato, prende il cibo e lo porta a casa dei suoi. Facendo sempre bene attenzione perché quando esce con le salsicce in mano, le altre persone che hanno sviluppato un olfatto molto più acuminato, sviluppato di prima, sentono l'odore di salsicce e cercano di prenderle, quindi lei scappa. E in questo sotterraneo, in questo cavò dove sono contenute, o questa va sotto nella scala, è tutto buio perché non c'è più elettricità, capite? Quindi recupera scatolette, recupera cibo che non deperisce. Quando tornerà, troverà un vero e proprio cimitero con i fuochi fatui dove sono state sostanzialmente rinchiuse queste persone che hanno trovato in qualche modo l'apertura, qualcuno è riuscito a trovare l'apertura, è entrato dentro e è rimasto chiuso come un topo in gabbia e quando lei torna, dopo alcuni giorni, 3, 4, 5 giorni da questa cosa, dalla prima recupero di cibo, troverà un cimitero e sarà una scena terrificante. Quando lei va giù, trova una scatola di fiammiferi nel buio, la prende e gli accende e guarda intorno, vede questo cimitero con i fuochi fatui, una scena da film del terrore, la donna non si riprenderà mai più da questa esperienza. C'è chiaramente quando vanno in città, troveranno un cane che si avvicina a loro, li aiuta, capite? I cani che anche se nutrono delle carcasse delle persone che sono morte in strada, ci sono delle scene terrificanti, delle scene di una crudezza micidiale. Gli esseri umani che sono completamente abbietti, vi ripeto, tutti sporchi di cacca, di merda, veramente, perché non si possono pulire, non hanno niente con cui pulirsi, non c'è più l'acqua, quindi è una situazione igienica terrificante. Quindi cosa succede? Succede che alla fine la donna, cercando un ritrovo, cercando un posto dove portarsi in salvo anche con questi reduci, perché alcuni muoiono, vengono persi per strada, cercando un posto dove salvarsi, arriva in una chiesa e in questa chiesa c'è qualcosa che gelerà il sangue alla donna e che la getterà in uno sconforto totale che sarà una di quelle scene fortissime, ovvero tutte le statue, tutti i dipinti, tutte le icone sacre non sono come erano sempre state, ma sono state. È stata dipinta una benda sugli occhi nei quadri dei santi, di tutti i santi, fa i nomi dei santi e se non me li ricordo. Le statue sono cinte da una benda in modo da far diventare cieche anche loro e chiaramente in questa scena potentissima dal punto di vista narrativo, immagino che facendo un film, io non so se esiste un film o se è stato fatto, non mi interessa, ma dal punto di vista visivo, per quanto sia tutto un libro che racconta della cecità, l'unica donna che vede, vede queste immagini fortissime, è un'immagine devastante. Pensate che arrivi in una chiesa dove cerchi di trovare la speranza, dove gli uomini si sono riuniti, dove tu cerchi il riposo perché sei stremato dalla fatica, dall'assenza di cibo, eccetera, arrivi là e perdi anche la speranza che esista ancora un Dio, che esista una fede in cui credere, perché il parroco della chiesa, prima di morire, prima di diventare cieco, ha bendato gli occhi a tutti i santi, cioè non c'è più Dio, Dio è morto, non esiste più nemmeno la religione, neanche i santi, neanche le icone, neanche Gesù Cristo può vedere più, perché il mondo è finito. E questa è una scena potentissima. Poi il finale, come vi dicevo, porta a qualcosa che io ho trovato un po' sbagliato, nel senso che il finale è catartico. Solo in apparenza però vi dirò. Il finale è catartico perché improvvisamente il ladro, mi sembra insomma uno di questa comitiva, inizia a vedere. Sono tutti nell'appartamento, nella casa della ragazza con gli occhiali scuri e poi vanno nella casa del dottore perché trovano le chiavi, insomma trovano un'abitazione dove stare e piano piano uno dopo l'altro riprendono la vista. E questo finale sembra catartico nel senso che tu ti immagini, l'olocausto totale, il mondo finirà, perché nessuno vede, moriranno tutti di fame, ci saranno scene di cannibalismo, i cani che verranno mangiati, i cani che mangeranno le persone, non si trova più e verremo sommersi dalla merda e dalla fame e moriremo di stenti e di sporcizia. Cosa che non succede perché piano piano uno dopo l'altro le persone riprendono a vedere la moglie del medico, l'uomo da un occhio solo, la donna eccetera. E chiaramente oltre a questo fatto ci sarà per esempio la donna dagli occhiali scuri, la ragazza dagli occhiali scuri si innamora dell'uomo, dell'orbo, quello che aveva un solo occhio, che cambia niente perché era cieco comunque, che era un vecchio, che era un vecchio impotente tra l'altro, ma lei si innamora proprio per, non vedendo più l'estetica, le persone si innamorano di quello che sono le persone, di quello che è l'animo, la spiritualità, per questo vi dico che è un racconto spirituale, che è una forte spiritualità. La ragazza più bella si innamora del vecchio, impotente, orbo, pelato con i capelli bianchi, grasso, insomma uno brutto che nessuno guarderebbe avendo gli occhi. E quindi si vede veramente, sapete la citazione famosissima del piccolo principe, non si vede che col cuore, gli occhi, non si vede che con gli occhi, non si vede che col cuore. Adesso non me la ricordo esattamente, ma il significato è questo, l'unica vera forza per poter vedere in realtà come sono le persone è il cuore, sono i sentimenti, non gli occhi. Ecco, in questa idea c'è uno dei punti fondamentali di questo libro. E capite che quando però riprendono la vista, la cosa ritorna alla normalità e quindi diventa difficile per la ragazza, anche se poi in realtà finirà insieme con questo vecchio orbo. Però la cosa che vi volevo dire è che in realtà tutta questa cosa di finale catartico, così catartico, non è. Perché vi leggo questa frase che è la frase sostanzialmente con cui si conclude il libro, una delle frasi, delle ultime frasi dette nel libro, che è qualcosa che concretizza e stigmatizza il senso di tutto questo romanzo bellissimo e terribile allo stesso tempo. È la donna, la moglie del dottore, che sta parlando. Vuoi che ti dica cosa penso? Parla. Secondo me non siamo diventati ciechi, non siamo diventati ciechi. Secondo me lo siamo, ciechi che vedono. Ciechi che, pur vedendo, non vedono. Questo vuol dire che, nonostante tutto, anche se tu siamo ciechi che, pur vedendo, non vedono. Perché il momento in cui loro hanno perso la vista, col male bianco, hanno visto veramente qual è la realtà dell'essere umano, a cosa porta il consumismo, a cosa porta un certo tipo di crudeltà dell'essere umano, a cosa porta liberare gli istinti quando nessuno ti osserva, quando le leggi saltano, quando non c'è più Dio, quando non c'è più niente a controllare l'uomo, e allora homo homini lupus. Capite qual è il senso? Quindi, ve lo ripeto, perché non è un concetto che arriva subito, ma lo siamo. Ciechi che vedono, ciechi con le maiuscole ciechi, e ciechi che, pur vedendo, non vedono. Cioè, sono ciechi perché la realtà, quello che è dentro l'uomo, non quello che noi vediamo con gli occhi, non il mondo che riusciamo a vedere, il mondo come è, quello che esiste quando chiudiamo gli occhi e dobbiamo solo sentire come sono le persone attorno a noi se tutti diventassimo ciechi. Il mondo come è, il mondo come è, ciechi che, pur vedendo, non vedono. Perché noi non siamo più ciechi che abbiamo alla vista, ma non vediamo la realtà che ci circonda. L'orrore del consumismo, l'orrore di un certo tipo di modo di essere al mondo. E questa è tutta l'idea di questo libro, che ripeto, non è fantascienza, ma è fantastico. Quindi, capite, il finale catartico in realtà non c'è, perché in realtà il mondo continua a essere cieco. Vi dico prima, prima di andare avanti, di farvi una serie di letture di alcuni elementi che ho trovato, alcune cose belle, alcune cose su cui ho riflettuto. Vi devo dire, per prima cosa, quali sono due aspetti che mi hanno lasciato un po' perplesso man mano che andavo avanti in questa, in questa, neanche in un cronia, in questa distopia. La cosa che mi ha turbato è che è vero che loro vanno a cercare il cibo, ma è anche vero che la prima cosa che fai è quella di cercare armi per difenderti. Perché homo hominis lupo, homo homini lupus, vuol dire che là fuori c'è il lupo, che è un uomo per di più, non è un cane, è un animale intelligente. Quindi la prima cosa che fai è armarti. E il problema è che loro non vanno a cercare, la donna non cerca delle armi, non va in cerca delle armi, cosa che potrebbe renderla non solo l'unica che vede quindi la divinità in terra, ma anche la più potente, perché chiunque si avvicini io in qualche modo ho il fucile e vi dico attenti a voi perché io vi uccido, perché qua la pistola, sono solo io che la pistola vi posso distruggere, quindi state lontani. Ho comunque un pugnale, se ti si avvicina qualcuno per rubarti mentre strisci nella debolezza, nell'inedia, devi avere un pugnale per uccidere chi sta cercando di rubarti la vita o rubarti la roba da mangiare. Numero due, mi ha stupito come la donna non pensi, lei l'unica viva, non pensi a rubare, a prendere un furgone, una macchina, un camion, a caricare questi 6, 7, 10 quanti sono superstiti del suo gruppo e ad andare fuori dalla città da Lisbona per vedere se tutto il mondo è così o se è solo la loro città, perché è chiaro che loro sono in carcere finché il male ha contagiato solo il loro mondo, ma se non fosse solo il loro mondo, se la città a fianco fosse sana loro probabilmente riuscirebbero a sopravvivere in qualche modo e non lo fanno. La terza cosa che mi è sembrato strano, ripeto, sto facendo un'analisi di questo libro come se non fosse una grande enorme metafora, un'enorme storia per parlare di tutt'altro. Vi ho detto la frase con cui si concluse il libro, siamo ciechi, non siamo più ciechi ma lo siamo comunque. È chiaro che tutto questo è un'enorme metafora, un'enorme racconto, una parabola possiamo dire espansa per parlare di qualcosa di filosofico, di spirituale, se volete, di riflessione dell'essere umano. Ma se tu stai creando una distopia di questo tipo devi rendere credibile il contesto in cui la stai ambientando e per me ci sono altri due elementi che non valgono. Il fatto che lei non abbia da subito, appena usciti, cercato di rubare il cibo, di trovare il cibo, cioè perché devono andare a piedi, cavolo? Tu vedi, mettiti macchine guida, mettiti macchine guida, vai fuori alla periferia e cerchi un market e prendi quello che ti serve. Perché è a piedi, c'è tutte le macchine della città che puoi prendere, molti avranno anche la chiave inserita probabilmente, quindi le armi, la macchina, quindi cercare cosa c'è fuori dalla tua città. La terza cosa che mi ha stupito molto è che nonostante sia passato un periodo di tempo relativamente lungo, perché la percezione del tempo non esiste, perché capite, se tu sei cieco non vedi l'orologio, non capisci, è tutto sempre giorno perché è un male bianco, può essere anche sempre notte, perdi la concezione del tempo, tra le altre cose. La donna poi aveva un orologio che andava caricato, si dimentica di caricarlo, poi riesce a ricapire che sono. Ma comunque, stavo dicendo, il problema è che in questo sistema di feci dappertutto, urine, feci, cacca e pipì, dappertutto, loro vivono con gli abiti che sono completamente impregnati di escrementi. Non si può pensare che dopo due settimane senza acqua corrente non hanno neanche l'acqua per lavarsi, capite? Non hanno l'acqua nel carcere e anche in città sostanzialmente non c'è più acqua. Quindi facciamo che siano passati dei mesi, va bene, saranno passati due mesi, un mese, non lo so. Un mese nella merda, cioè negli escrementi tutto il tempo. È impensabile che non si sia scatenato un'epidemia di colera, di qualche patologia, mettetela voi, una patologia infettiva, gente che moriva di infezione per la strada come cani. Questo aspetto delle infezioni non è detto così tanto. Sembra che le persone muoiano di inedia proprio, perché non hanno cibo, non riescono a procurarsi il cibo, a procacciarsi i viveri e quindi muoiono. E questa è un'altra cosa che mi ha fatto un po' dire, ma cavolo, in una distopia così, in un mondo creato come l'ha creato Saramago, questi due elementi mi hanno un po' disturbato. Perché è chiaro che lo scrittore, cioè non fraintendete, io non sto criticando che questo libro sia sbagliato, chiariamoci, sono delle mancanze che hanno peso in quanto tu lo vogli analizzare come qualcosa di... la verosimiglianza che Saramago ha creato, mettiamo così, per alcuni ipotilista non è così verosimile. Ma non è questo l'interesse di questo libro. È un libro sociologico, se volete, un libro filosofico, non è un libro dell'orrore. E a questo proposito vi volevo dire, ho trovato una sorta mia di parallelismo, ve l'ho detto chiaramente con... se questo è un uomo con i libri che riguardano l'olocausto, un lager, quello in cui vivono, il parallelismo in questo senso è simile. L'uomo che viene spersonalizzato, ci sono i capò, perché capite, quello con la pistola è il capo della baracca, la donna viene eletta sostanzialmente, anche se il medico, il marito, quello che viene eletto a capo della loro ocella, in realtà è la donna che comanda. Però un po' la situazione è quella dei lager. Ma c'è un altro parallelismo che mi è venuto in mente man mano che leggevo, che è quello con Io sono leggenda. Perché in quella situazione, capite, c'è un mondo che è terrorizzato da qualcosa. E la situazione che vive, e adesso non mi ricordo più il nome del protagonista, è quella dove lui deve, in un mondo che è tutto fermo, perché lui è l'ultimo uomo sulla terra, lui deve mandare avanti tutta la baracca con il generatore di energia per produrre energia elettrica, per avere l'acqua potabile, per avere il frigo. Cioè c'è quel tipo di situazioni in cui la donna un po' dovrebbe essere lei che cerca di mantenere in moto tutte queste cose, eppure non lo fa. E c'è comunque secondo me quel tipo di sensazione dove, capite, l'ultimo uomo sulla terra combatte i vampiri che stanno bussandogli alla porta e lo vogliono uccidere, vogliono entrare. E allo stesso modo qua sono loro che si barricano in casa e che devono sopravvivere e evitare che i ciechi entrino, gli rubino le cose. È una sorta di situazione zombie. Non so come dire, a un certo punto quando sono tutti senza forze c'è una sorta di situazione zombie. Non sono la stessa storia, non sono la stessa cosa, ma un qualche richiamo, io ce l'ho visto, sarà che a me quel libro di io sono leggendo ha colpito moltissimo. Quindi la cosa poi che distrugge qualunque cosa è che non si può trovare una cura perché non si capisce cos'è che abbia generato il male e nessuno fa in tempo a studiare perché sono diventati tutti completamente ciechi. Un'altra cosa che vi volevo dire è questo elemento della donna. Questo elemento della donna ha un simbolismo potentissimo perché voi capite che Saramago, che era ateo, che era assolutamente un non credente agnostico ateo, cioè uno senza Dio, che non crede in nessun Dio, ha utilizzato la donna per essere la guida di tutti questi eri umani. E questo capite che ha una potenza evocativa gigantesca, la Madonna. Non so come dire, la donna può guidarti al male, come ha fatto Eva, come può guidarti alla nascita del Salvatore, cioè la madre di Gesù Cristo. La donna che è quella che riesce a far partorire. Perché è stata una donna l'unica che vedeva? Perché è una donna l'unica che conserva veramente la visione? Questa è una cosa su cui possiamo ragionare per giorni e non metterci d'accordo. Però ragionate da soli quando leggerete questo libro, che spero per voi leggerete prima o poi nella vita, ragionate sul fatto che l'unica persona al mondo, al mondo per quello che sappiamo, che veda ancora è una donna. E poi c'è questo elemento, ecco, legato alla religione. Perché se è vero che da una parte c'è homo, homini, lupus, come vi ho detto quelli che si accoltellano, si ammazzano con la pistola, stuprano le donne, eccetera, dall'altra c'è, al contempo, il vedere che gli esseri umani per sopravvivere, per sopravvivere, fanno muro gli uni contro gli altri per tenersi in vita l'un l'altro. C'è chi dà il cibo al bambino, c'è chi sta attento al bambino, capiti? In una situazione di disperazione così la cosa più ovvia era che ognuno pensasse a sé. Ma è la donna che fa da collante, anche il fatto che siamo tutti ciechi, quindi non moriamo tutti o cooperiamo. E anche in questo senso una sorta di, se la volete mettere sul piano politico, per come lo vesto io, Saramago era un comunista, questo c'è poco da discutere. La visione è che il mondo consumista, che è quello che ha portato l'uomo a essere cieco, questo di volere tutto, viene, e quindi l'uomo che uccide l'altro uomo per il senso di potere, per primeggiare, viene combattuto dalla micro comunità della donna e del dottore, dove le persone fanno muro, fanno cooperazioni, collaborano, nessuno rimane indietro perché si mettono una mano sulla spalla e tutti devono sopravvivere, il cibo viene diviso tra tutti, quando chi non vede non può sapere se con la fianco ne sta mangiando di più. Ma è la donna, ancora una volta, che tiene in piedi tutto questo sistema virtuoso. E al contempo questo, capite, che crea una comunità, cioè la condivisione che è la base del pensiero comunista, socialista, come la volete mettere. Per cui, io adesso non voglio dilungare questo discorso perché veramente non ne siamo più e diventa un video di quattro ore. Ma c'è veramente anche una profonda visione politica in quello, non solo filosofica, ma anche di filosofia politica, possiamo dire, di quello che questo libro rappresenta. Io vi do degli spunti perché non posso parlare cinque ore di un libro così, non la finiamo più, però quando lo leggete pensate anche a questo tipo di cose. La donna che è la salvatrice, non è Gesù, ma è la donna che salverà il mondo. E questo elemento del fatto che il ritorno alle origini, l'uomo che vive la comunità come la comunità alle origini, che è il fatto di essere in comunità che consente la vita degli esseri umani, è una sorta di richiamo, una visione politica. Fate voi il tipo di politica che volete, ma di sicuro non è quella individualista del consumismo, per come lo vedo io. Vi continuo a dire, questo elemento dell'uomo che collabora, che ha la pietas, c'è il senso di pietas, ci sono dei sentimenti, delle idee, dei modi di fare, delle idee alla base di quello che sarà Magoschive, che sono profondissimamente cristiane, sembra quasi un libro di teologia a un certo punto, dice delle cose, fa delle considerazioni generali che sarebbero bene in un sermone, se non sapessi che sarà mago e ateo. E al contempo la Chiesa, con queste statue bendate, è qualcosa che ti fa capire che la religione neanche c'è più. E al contempo, ecco, c'è questa scena, mi sono indicato il libro, la scena finale che si svolge nella Chiesa mi ha ricordato tantissimo, tantissimo, la guerra dei mondi. Il film, magari degli anni 50, basato sul romanzo di Wells, di Herbert George Wells. Tenete conto anche del fatto però che, a differenza del romanzo, non è la pioggia che uccide gli extraterrestri, ma è una spiegazione che non viene data del come le persone rincomincino a vedere. Prima di andare avanti a commentare le letture, le note che mi sono messo sul libro, cercherò di essere sintetico anche lì, ma è un romanzo veramente troppo denso, mi sono scaricato da Wikipedia alcune cose per farvi capire, prima di andare avanti nelle letture, che tipo di uomo fosse Saramago. Saramago, che è stato criticato moltissimo, lasciando perdere tutta la sua vita, è nato negli anni 20 e è morto nel 2000, e non mi ricordo cosa, pochi anni dopo aver ricevuto il Nobel. C'è la sua posizione molto netta contro Israele, contro i sionisti, contro il tipo di mentalità di Israele nella guerra palestina-israeliana, che è quello che stiamo vivendo purtroppo in questi giorni. Vivere nell'ombra dell'olocausto ed aspettarsi di essere perdonati di ogni cosa che fanno, a motivo della loro sofferenza passata, mi sembra un eccesso di pretese. Evidentemente non hanno imparato molto dalla sofferenza dei loro genitori e dei loro nonni. Parole terribili, che però sono quelle che molti, oggi come oggi, pensano rispetto alle ritorsioni di Israele nei confronti di Hamas e della Palestina. Quello che sta accadendo in Palestina è un crimine che possiamo paragonare agli orrori di Auschwitz. Sono parole che sembrano scritte oggi, perché la diatriba di questi giorni parla di queste cose. La Lega per l'antidifamazione, l'associazione contro la difamazione del popolo ebraico ha definito queste affermazioni antisemite. Per niente, io non la vedo per niente così, se volete sapere la mia ipod, la mia posizione. C'è stata una polemica su alcune vignette antislamiche, ma questa non ve la leggo, cercatevela su Wikipedia se volete. Poi Saramago è un fautore della cosiddetta politica del iberismo, non l'iberismo, del iberismo, ovvero la grande Spagna, cioè il fatto che secondo lui la Spagna e il Portogallo dovrebbero riunirsi in una macro-nazione unitaria. Dovrebbero unirsi. E poi c'è questo passo che vi volevo leggere, perché tantissimi intellettuali durante gli anni 90-2000 si sono schierati contro Berlusconi. Berlusconi è morto, è inutile fare i discorsi su Berlusconi, si potrebbe fare sul berlusconismo, ma questo non si chiama politicizziamoci, ma si chiama librarsi. Però vi volevo leggere questo. A te quando Berlusconi absuras da nostra pacienza, fino a quando Berlusconi abuserai della nostra pazienza. Questo ha scritto Saramago. Che questo è non nient'altro che un richiamo all'incipit della prima catilinaria di Cicerone, chiaramente in opposizione a Berlusconi. Sapete che Berlusconi era il proprietario della Einaudi. Vi leggo questo, vi leggo questo passo di Wikipedia così lo capite bene cosa voglio dire. È evidente in queste parole il richiamo all'incipit della prima catilinaria di Cicerone. Saramago aprì un blog dove scriveva costantemente, mantenendo un contatto diretto con i suoi lettori. Qui contestò duramente Silvio Berlusconi per la sua politica. In seguito all'articolo, la casa editrice Einaudi, controllata da Berlusconi dal 1994 tramite il gruppo Mondadori, annunciò che non avrebbe pubblicato la raccolta dei suoi scritti sul blog denominata Il Quaderno. Il Quaderno è un'opera che Saramago stava per pubblicare, edita comunque in Italia dalla Bollatti Borlinghieri. Saramago decise quindi di passare l'intero corpus delle sue opere a Feltrinelli, tuttora l'editore italiano di tutti i suoi libri. Sapete che poi in seguito la Feltrinelli è stata comunque acquisita dal gruppo Berlusconi, però comunque la Feltrinelli è quella che ancora pubblica il corpus intero di Saramago, quindi non più in Audi ma Feltrinelli. Quindi Saramago, inutile discorrere ancora su Saramago perché questo video diventerà lunghissimo, ma leggetevi la sua vita perché come vi dico sempre sapere chi sono gli autori dei libri che leggiamo ci apre completamente la mente a visioni, a una lettura più consapevole, più vera di quello che lo scrittore voleva dire al proprio lettore. Prima di continuare vi devo dire due parole sullo stile di scrittura di Saramago perché questo è uno di quegli elementi che vengono sbandierati, che vengono portati, di cui si discute da tempo infinito, da tempo immemore, che è questo. Saramago non usa le virgolette per il discorso diretto. Usa la virgola al posto del punto, non mette i due punti, mette la virgola e la maiuscola quando qualcuno sta parlando col discorso diretto, in un discorso continuo come se fosse un flusso di pensiero, un flusso di coscienza, chiamatelo come volete, e questa cosa è inizialmente disorienta qualsiasi lettore. In più non ci sono tutti questi a capo, cioè capite c'è la virgola, la maiuscola, il discorso diretto si apre senza che ci siano virgolette, caporali, lineette, trattini, non c'è niente, la maiuscola e la persona inizia a parlare. Il tutto in una struttura del testo che viene definita normalmente wall of text, vuol dire un muro di testo, vuol dire che la pagina è un blocco di testi di parole, una attaccata all'altra, senza che ci siano dei paragrafi, senza che ci sia punto e a capo inizia un altro paragrafo. Il che crea una lettura in teoria difficilissima, difficilissima da capire, da leggere, da interpretare. Molti si sono fermati e non sono riusciti ad andare avanti dalle prime pagine perché questo stile, questa forma, proprio forma sintattica, neanche sintattica, ortografica possiamo dire, crea dei veri problemi a quasi tutti i lettori, a molti lettori, a quelli che non riescono a scardinare questo meccanismo. E per assurdo vi dico queste riflessioni che ho fatto mentre lo leggevo. Per assurdo, quando ci si trova di fronte a un wall of text, a una pagina tutta di parole senza capo, senza niente, il lettore viene scoraggiato e la lettura è difficoltosa. Ve ne ho detto quando ho parlato di Philip Roth. Beh, in questo caso vi devo dire, anche se l'ho letto su ebook, vi devo dire che a me questo modo di scrivere, questo stile, questo stile sintattico, questo stile narrativo di Saramago, mi ha fatto l'effetto esattamente contrario. Cioè non mi ha rallentato la lettura, mi ha velocizzato in un modo spaventoso la velocità di lettura come io non sono uso a fare. Addirittura c'erano delle parti dove Saramago inserisce delle sue riflessioni, delle sue vere e proprie, come le possiamo chiamare, delle sue parti dell'autore che mette il suo pensiero esplicitamente nel testo. Perché, ripeto, non pensate le solite cose, lettura immersiva, focalizzata, niente. Questo è un libro scritto in un modo assolutamente unico, affascinante, ma molto, molto fuori da quello che è il gusto moderno per la narrativa. E quindi capite che tutto questo modo mi ha velocizzato la lettura in un modo pazzesco. Quindi anche, quindi tutta questa, tutto questo elemento di parole che mi hanno portato a una lettura più veloce, mi ha implicitamente, inevitabilmente, per quanto mi riguarda, fatto perdere quella lentezza di lettura che si deve quando un autore esprime dei concetti filosofici, morali, dei pensieri particolari che vanno letti con la giusta velocità e su cui ci si deve soffermare per ragionare. Io questo non sono riuscito a farlo. Quindi alcuni pensieri, alcune idee di Saramago le ho perse strada facendo. Perché questo stile di scrittura era troppo veloce per me. Mi ha creato una velocità di lettura che non era la mia. Non so se fosse un effetto che voleva Saramago, che forse è paragonabile un po' alla cecità. Quando tu sei al buio, ti disorienti, non capisci, non vedi, non senti, quindi ti aiuti con i sensi che hai per capire dove stai andando. Io penso che questo sia anche forse un effetto che lui aveva voluto, ma credo che scriva tutti. Io ho letto solo questo di Saramago, ma da quello che so, scrive tutti i suoi romanzi così. Per cui tenete conto quando leggerete questo libro di questo elemento sintattico, di questo elemento proprio formale della scrittura di Saramago che è senza punti, senza virgolette eccetera, ma tutto con una punteggiatura molto molto particolare. Lo stile narrativo di Saramago è anche caratterizzato dall'utilizzo di presente e passato che si alternano nella narrazione in base allo stato emotivo, in base, possiamo dire anche a un presente storico, ma all'interno degli stessi fatti l'utilizzo di un tempo rispetto a un altro salta completamente. In alcune frasi, in alcuni periodi si usa il presente, in altre il passato, senza che si stia raccontando qualcosa nel passato. Quindi anche l'uso dei verbi è molto complesso. Il piano dell'utilizzo temporale è forviante e disorientante, ma penso che questi siano tutti effetti voluti per creare questo disorientamento che hanno i ciechi. Così come non è uno scrivere paratattico, cioè le frasi non sono frasi semplici e principali, messe una di fianco all'altro, ma è uno stile ricchissimo di subordinate, di concatenate, di conseguenzialità, di periodi molto lunghi, quindi non paratattico, cioè con le frasi messe una a fianco all'altra, ma un periodo, una struttura ipotattica, cioè con delle frasi secondarie, un periodo complesso nella sua struttura sintattica, cosa che rende la lettura molto affascinante, molto cerebrale, ma anche probabilmente complessa se si mette in mezzo anche il fatto che, come vi ho detto, la punteggiatura rende il tutto ostico e l'utilizzo dei tempi è un altro rincaro della dose. Vi leggo adesso un passo in cui si vede come Saramago passa dal presente al passato nella stessa, nella stessa narrazione, sentite, i cani l'hanno circondata, fiutano i sacchetti, ma senza convinzione, come se l'ora di mangiare ormai fosse passata. Uno la lecca in faccia, forse lo hanno abituato fin da cucciola ad asciugare i pianti, il cane che lecava le lacrime della donna che piange. La donna gli tocca la testa, scorre la mano sul dorso inzupato e le altre lacrime le piange abbracciata a lui. Quando finalmente alzò gli occhi, mille volte si è lodato il dio dei crocevia, vide davanti a sé una grande mappa, uno di quei cartelloni che gli uffici turistici comunali sparpagliano nel centro della città, per lo più a uso e consumo e la tranquillità dei visitatori eccetera eccetera. Cioè lei vede, è la moglie del dottore, c'è questo cane che le lecca le lacrime, però vedete come c'è il passaggio dal presente all'imperfetto, nella stessa frase e nella stessa narrazione. Questa è un'altra di quelle cose che disorienta un lettore, forse poco avezzo, un tipo di arcrobazie linguistiche di questo tipo. Adesso io vi farò una serie di letture per farvi vedere di cosa stiamo parlando con questo libro. La citazione e la dedica che Saramago fa in apertura di questo libro è a Pilar, a mia figlia Violante, se puoi vedere guarda, se puoi guardare osserva, libro dei consigli. L'incipit di cecità di José Saramago. Il disco giallo si illuminò. Due delle automobili in testa accelerarono prima che apparisse il rosso. Nel segnale pedonale comparve la sagoma del lumino verde. La gente in attesa cominciò ad attraversare la strada camminando sulle strisce bianche dipinte sul nero dell'asfalto. Non c'è niente che assomigli meno a una zebra, eppure le chiamano così. Gli automobilisti impazienti col piede sul pedale della frizione tenevano le macchine in tensione, avanzando indietreggiato come cavalli nervosi che sentissero arrivare nell'aria la frustata. Ormai i pedoni sono passati, ma il segnale di via libera per le macchine tarderà ancora alcuni secondi. C'è chi dice che questo indugino apparenza tanto insignificante se moltiplicato per i migliaia di semafori esistenti nella città e per i successivi cambiamenti dei tre colori di ciascuno è una delle più significative cause degli ingorghi o imbottigliamenti, se vogliamo usare il termine corrente, della circolazione automobilistica. Finalmente si è acceso il verde, le macchine partirono bruscamente, ma si notò subito che non erano partite tutte quante. La prima della fila di mezzo è ferma. Deve esserci un problema meccanico, l'acceleratore rotto, la leva del cambio che si è bloccata, o una varia dell'impianto idraulico, blocco freni, interruzione di circuito elettrico, a meno che non le sia semplicemente finita la benzina. Non sarebbe la prima volta, è chiaro che l'autista è diventato cieco. Sentite, per esempio, adesso alcune letture, vi faccio una prima parte dove dico, vi leggo le letture i passi che mi sono sembrati belli. Con mano tremante la ragazza si mise alcune gocce di collirio. Avrebbe pur sempre potuto dire che non erano lacrime quelle che le stavano colando giù dagli occhi. Ancora una bella lettura. Attenzione, al terzo segnale saranno le quattro. Una delle cieche domandò ridendo, del pomeriggio o del mattino? E fu come se la risata le facesse male, non mette i punti interrogativi neanche. Celatamente la moglie del medico regolò e caricò l'orologio. Erano le quattro del pomeriggio, anche se in verità per un orologio tant'è va dall'una alle dodici, il resto sono idee degli esseri umani. L'orologio segna solo dall'una alle dodici. Se mattina o notte o se giorno o notte sono idee degli esseri umani, non dipende dall'orologio. Bellissimo questo passo, bellissimo, mi è piaciuto tantissimo. E poi vi leggo un detto. Saramago in questo suo racconto infila un sacco di detti di, come si chiama, di saggezza popolare, di frasi, di detti proprio, di frasi fatte che vengono dette in Portogallo. E una che mi ha colpito molto è questa. Non c'è bene che sempre duri, né male che perduri. Bello. Ce ne sono tantissimi di questi detti portoghesi in questo romanzo di Saramago, alcuni più notevoli, alcuni meno notevoli, ma tutti molto particolari. Ancora un passo che mi è piaciuto molto. Là dentro, nella camerata, la cieca che non riusciva a dormire, era ancora seduta sul letto, in attesa che la stanchezza del corpo fosse tale da vincere l'ostinata resistenza della mente. Che bella questa frase, forse la frase è più bella di tutto il libro. È una cosa che mi ha emozionato, l'ho riletta 3-4 volte quando l'ho incontrata perché è qualcosa veramente di unico. Bellissima questa frase. Ancora una frase bellissima, perché come è scritta questo Saramago, chiaramente è un fuoriclassico, un premio Nobel, ma non per questo, una penna divina. Sono seduti vicini i vicini, le tre donne e il ragazzo in mezzo, i tre uomini intorno. Se qualcuno li vedesse, direbbero che sono già nati così e per la verità sembrano un corpo solo, con un solo respiro e un'unica fame. Perché stanno crepando di fame, un corpo solo, un unico respiro e un'unica fame. Madonna, che brividi che mi ha dato questo libro quando l'ho letto. Qualcosa di eccezionale, eccezionale, eccezionale veramente. Ecco, vi ho letto i passi più belli, quelli che mi sono segnato per non essere troppo pedante. Adesso vi faccio questa lettura dove c'è un aspetto filosofico che è rilevante. È una lettura un po' lunga, ma sentite. La colpa è mia, piangeva, ed era vero, non si poteva negare, ma è pur certo, se può servirle da consolazione, che se prima di ogni nostro atto ci mettessimo a prevederne tutte le conseguenze e considerarle seriamente, anzitutto quelle immediate, poi le probabili, poi le possibili, poi le immaginabili, non arriveremmo neanche a muoverci dal punto in cui ci avrebbe fatto fermare il primo pensiero. I buoni e cattivi risultati delle nostre parole e delle nostre azioni si vanno distribuendo, presumibilmente in modo alquanto uniforme ed equilibrato, in tutti i giorni del futuro, compresi quelli infiniti, in cui non saremmo più qui per poterlo confermare, per congratularci o chiedere perdono. D'altro canto c'è chi dice questa sia l'immortalità di cui tanto si parla. Questo capite che è una visione filosofica abbastanza interessante, ma non la commento oltre perché sennò veramente questo video dura un giorno e mezzo. Ancora, non ci furono preghiere, gli si potrebbe mettere una croce, disse la ragazza dagli occhiali scuri. Fu rimorso a farla parlare, ma nessuno dei presenti aveva notizia di cosa il defunto pensasse in vita di queste storie di Dio e della religione. Meglio tacere, ammesso che un diverso comportamento sia mai giustificato dinanzi alla morte. Cioè, loro stanno qua, vedete anche il discorso della religione come torna costantemente in questa narrazione, loro stanno pensando di dare sepoltura cristiana, di fare una sorta di funerale a una persona morta, ma non sanno niente di questa persona, non sanno se è giusto o no, se questa persona l'avrebbe voluta. E quindi, meglio tacere, ammesso che un diverso comportamento sia mai giustificato davanti alla morte. Davanti alla morte c'è solo il silenzio. E forse qua ho trovato il passo in cui, vi leggo dove, perché mi è venuta l'ispirazione, il pensiero che ci sia un parallelismo tra cecità di Saramago e io sono leggenda. I ciechi si muovevano da ciechi quali erano, attentoni, inciampando, trascinando i piedi, eppure, come se si fossero organizzati, seppero ripartire i compiti efficacemente. Alcuni, guazzando nel sangue appiccicoso e nel latte, ricominciarono immediatamente a recuperare, a trasportare i cadaveri nel recinto. Altri si occuparono delle casse, una dopo l'altra, alle otto che erano state abbandonate dai soldati. Si muovono come zombie, hanno questo modo di camminare pensate, delle persone completamente cieche, in un ambiente che non conoscono, dove non hanno nessuno che li possa dire come muoversi, dove sbattere, a cosa stare attenti, pezzi di vetro, qualcuno si taglia coi pezzi di vetro, strisciano nel terreno per non cadere, per non sbattere, quindi vanno a quattro zampe, come degli animali. E quindi si muovevano da ciechi quali erano, attentoni, inciampando, trascinando i piedi. Capite? Degli zombie, a me ha dato molto l'impressione quando lui descrive come questi ciechi si muovono, soprattutto quando sono da soli o sono in piccoli gruppi, sono proprio l'idea degli zombie. E poi c'è un pezzo in cui, anche qua vi faccio capire perché ho pensato a quel tipo di racconti sull'Olocausto, sul nazismo, sui lager, sul posto dove all'essere umano veniva strappato a qualsiasi sua dignità e quindi veniva ridotto ad animale se non ad oggetto. Ci sono molti modi di diventare un animale, pensò. E questo è solo il primo. Cioè il primo è il fatto che loro non hanno niente con cui pulirsi, sta defecando, è andato in bagno a defeccare. Non ha carta per pulirsi, non ha qua per pulirsi. In più sta andando a defeccare a fianco un'altra persona che non vede, ma è lì. Può essere che sia un attaccato all'altro, che lui stia facendo la cacca addirittura mettendo, chiaramente mettevano i piedi sugli escrementi degli altri. Voglio dire, questo sentendosi sporco, sporco come non ricordava di essere mai stato in vita sua. Capite? Sono elementi che fanno diventare l'uomo un animale. E poi c'è un aspetto molto interessante dal punto di questo narrativo che è quello con cui Saramago descrive progressivamente l'evoluzione di tutta questa condizione di cecità. Perché inizialmente c'è il fatto di non trovare i letti e di non conoscersi. Quindi si devono toccare in faccia come fanno i ciechi per capire chi sono, dove sono, quale è il letto, ricolassi dove il letto. Poi subentra il problema di andare in bagno, poi subentra il problema di mangiare, poi subentra il problema di pulirsi e così via. Quindi passo dopo passo Saramago approfondisce e chiarisce al lettore quali sono i problemi di questa nuova condizione che affligge tutto il genere umano. Quindi i cambiamenti della nuova condizione vengono descritti passo passo. Sentite questo breve passo per cui vi cerco di chiarire cosa voglio dire. Alcuni ciechi aprirono gli occhi quando il mattino era ancora lontano e nel loro caso non fu tanto per colpa della fame ma perché il loro olorogio biologico, o comunque si sia soliti chiamarlo, ormai si stava sfasando. Avevano supposto fosse giorno fatto. Cioè se tu non vedi più, non hai più la melatonina, non hai più quei circoli, quei meccanismi che tengono in vita l'uomo con il ritmo circadiano, si stanno sfasando completamente. Questa è un'altra delle conseguenze della cecità, un'altra delle innumerevoli conseguenze della cecità. Dormivano e si svegliavano senza sapere quanto hanno dormito, se hanno dormito di giorno o di notte. Tutte queste cose sono descritte passo passo in modo mirabile da Saramago, un modo veramente eccezionale, come riesce a calarci nella realtà di quello che succede passo dopo passo e farci capire, analizzando tutte le varie possibili sfaccettature e conseguenze di questa nuova condizione. E poi c'è un aspetto in cui il narratore esterno, in questo caso, in molti casi, in molti punti di vista, è veramente a livello di un antropologo. Sentite, queste osservazioni di tipo psicologico, per la loro sottigliezza apparentemente e niente affatto pertinente di fronte alla straordinaria dimensione del cataclisma che il resoconto sta tentando di descrivere, servono unicamente a spiegare il motivo per cui erano svegli. Qua veramente, a parte il periodo molto complesso, c'è proprio il narratore esterno qua, il Saramago che sta raccontando, dà proprio un punto di vista come se fosse un antropologo che sta studiando questi animali in gabbia, questi uomini in gabbia, come si comportano e come cambiano il loro modo di vivere, i loro sentimenti, il loro modo di essere anche esseri umani in questo senso. E poi questo pezzo, ve lo leggo, c'è uno spoiler. Quando c'è stata tutta quella situazione in cui l'uomo con la pistola ha voluto un pagamento in natura, cioè con le donne, per dare il cibo alle altre camere, la moglie del dottore che è andata, la prima volta è andata, ma la seconda volta quando torna si porta delle forbici. Aveva con sé delle forbici in borsetto, le ha trovate lì, non mi ricordo come. Queste forbici le appende un chiodo, poi guarda le forbici, dopo che è stata violentata da questi uomini, prende le forbici e le usa come un'arma e ucciderà l'uomo con la pistola che la sta violentando, o che sta violentando un'altra donna, perché lei va in più, perché non era il suo turno, quando vanno quelle di un'altra stanza, lei si accoda senza essere vista e uccide lo stupratore, il capo degli stupratori. Chissà, questa cecità non è come le altre, come è venuta così potrebbe scomparire. Ormai tardi per chi è morto, tutti dobbiamo morire, ma non dovremmo essere uccisi e io ho ammazzato una persona, non accusi se stessa, sono state le circostanze, qui tutti siamo colpevoli e innocenti, molto di peggio hanno fatto i soldati che ci sorvegliano e persino loro potranno adurre la più grande di tutte le scuse, la paura. La paura rende l'uomo assassino. Questo è un dialogo che c'è tra la donna con gli occhieri scuri e la moglie del dottore, come vi ho detto che ha ucciso l'uomo con la pistola dell'altra camerata. E poi chiaramente in tutto questo tipo di discorsi c'è un'ironia chiaramente grottesca, c'è il ridere, una sorta di umorismo nero, un'ironia grottesca. Adesso ve ne leggo un esempio, un passo. In circostanze differenti il grottesco spettacolo avrebbe fatto scoppiare dalle risa il più impettito degli osservatori. C'era da crepare, un gruppo di ciechi che procedevano a quattro zampe, con la faccia strisciante per terra come suini, un braccio avanti a scandagliare l'aria, mentre altri, forse per paura che lo spazio bianco fuori dalla protezione del soffitto l'inghiottisse, continuavano a stare disperatamente avvinghiati alla corda. C'è una corda, stanno tenendo e camminano a tentoni così. Capite come questa immagine vista da fuori dei suini, degli uomini che sembrano degli animali, capite che certo è facile, nessuno vede una scena così e non pensa all'orrore che c'è dietro o perché si sta generando una scena così, pensa che è divertente, potrebbe essere uno sketch, uno slapstick. Uno slapstick in realtà è una scena terribile, ma è un'ironia cruda descritta e dichiarata proprio da Saramago quando ne parla. Sentite ancora questa scena come descrive una situazione che potrebbe essere paragonabile a quella di uno zoo. A me ha fatto questa impressione. Eppure non si può negare che l'annuncio dell'arrivo del pranzo fu per tutti un balsamo ristoratore. E se è innegabile che il ritiro di così grandi quantità di cibo e la loro distribuzione fra tante bocche, per la mancanza di un'organizzazione adeguata e di un'autorità capace di imporre la necessaria disciplina di origine a nuovi di sapori, dobbiamo pur riconoscere che l'atmosfera cambiò sostanzialmente in meglio, quando in tutto l'antico manicomio non su di altro che non il rumore di 260 bocche che masticavano. Capite come 260 bocche in questo manicomio dismesso? È proprio l'impressione che si ha di un vero e proprio zoo. E qua c'è una nota di colore, di qualcosa che è bellissimo, che racconta una persona che è diventata cieca. L'ultima cosa che ho visto è un quadro, un quadro, ripete, il vecchio della benda nera, e dove si trovava. Ero andato al museo. Era un campo di grano con corvi e cipressi e un sole che sembrava essere fatto con pezzi di altri soli. Ha tutto l'aspetto di essere un olandese. Chiaramente il famosissimo quadro di Van Gogh sta descrivendo qui. E anche qui in questo passaggio che c'è a pagina 169 c'è qualcosa che poi è abbastanza in linea con quella citazione che vi ho letto che conclude il romanzo. Siamo ciechi che non vedono, non siamo più ciechi ma non vediamo, eravamo ciechi prima. Il pensiero centrale è questo. La paura cieca, disse la ragazza dagli occhiali scuri. Parole giuste. Eravamo già ciechi nel momento in cui lo siamo diventati. La paura ci ha ciecato. La paura ci manterrà ciechi. Chi sta parlando? Domandò il medico. Un cieco, rispose la voce. Un semplice cieco. Qui non c'è altro. Allora il vecchio della banda nera domandò di quanti ciechi ci sarà bisogno per fare una ciecità. Nessuno gli seppe rispondere. Capite il concetto di eravamo già ciechi anche se vedevamo già la ciecità, la ciecità dell'intelletto più che la ciecità fisica. E poi questa frase che chiaramente io ho letto sul libro all'indomani del covid. Capite che alcune frasi mi hanno fatto veramente pensare. Come per esempio questa. Le notizie non furono confortanti. Correva voce che fosse prevista a breve scadenza la formazione di un governo di unità e di salvezza nazionale. Insomma pensatela come volete ma non è un libro profetico perché le epidemie ci sono sempre state ma leggere certe parole all'indomani del covid mi ha fatto venire più di un brivido. Ecco sentite questo pezzo in cui le donne devono prostituirsi sostanzialmente prestarsi come carne da macello se vogliono avere indietro cibo. Si rallegrino dunque le donne della camerata delle camerate dell'ala destra. Del male altrui si guarisce, del proprio si muore. Parole che non pronuncio nessuna ma che tutte pensarono. In realtà deve ancora nascere il primo essere umano sprovvisto di quella seconda pelle che chiamano egoismo ben più dura dell'altra che per qualsiasi cosa sanguina. Homo homini lupus. Va bene? Qua meglio te che me. Meglio che tu crepi che non crepio. Meglio che ci vada tu a farti prostituire che non io. Perché io salvo la pelle sprovvisto di quella seconda pelle che chiamano egoismo ben più dura dell'altra che pur che per qualsiasi cosa sanguina. L'egoismo è la corazza che l'essere umano ha per cercare di difendersi davanti all'ingiustizia del mondo. Io non mi sento di dire in questo contesto che fosse una cosa sbagliata. Sono gli istinti dell'essere umano. Quindi capite come questo romanzo è profondamente non solo politico e filosofico ma anche veramente potrebbe essere un esperimento di antropologia. Ancora una lettura. La ragazza dagli occhiali scuri andò a mettersi dietro la moglie del medico. Poi una dopo l'altra la cameriera dell'albergo, l'impegata dell'ambulatorio, la moglie del primo cieco, quella che non si sa chi sia e infine la cieca delle insonnie, una fila grottesca di femmine maleodoranti che sono coperte di queste feci di rifiuti. Con gli abiti immondi e cenciosi sembra impossibile che la forza bestiare del sesso sia ancora tanto possente, al punto da accecare l'olfatto che è il più delicato dei sensi. Ci sono persino dei teologi che affermano, benché non con queste parole precise, che la maggiore difficoltà per riuscire a vivere decentemente l'inferno è l'odore che c'è. Lentamente guidate dalla moglie del medico, che è l'unica che vede, ciascuna con la mano sulla spalla della seguente, le donne cominciarono a camminare. Stanno andando ovviamente a prestare il loro corpo in cambio di cibo quando sono ancora nel carcere. Va bene, io sono arrivato in fondo a questo lunghissimo video su cecità di José Saramago. Ho fatto un'analisi, non ho fatto una recensione, ho saltato sicuramente un sacco di passi perché vi ripeto è un libro densissimo, è un capolavoro senza tempo, è un libro distoppico, un libro fantastico nel senso del genere, è un libro difficilissimo da digerire. Ci sono delle parti che veramente sono state difficili da mandare giù, anche perché pur trattandosi di una distopia, pur trattandosi di una condizione non reale, quindi fantastica, quello che racconta è qualcosa di vero, è qualcosa che potrebbe succedere in quelle date condizioni che Saramago ci dà nella narrazione perché l'essere umano è quello che è. Vi invito a lasciare un like, vi invito a condividere questo video, vi invito soprattutto a leggere Cecità di Saramago e per completezza se volete degli altri punti di vista molto interessanti che ho trovato qua sotto, come vi ho detto, oltre ai miei libri e link per i miei libri che trovate sempre qua alle mie spalle, ci sono anche i link ai video di Iman the Books di Martina e di Ermanno Ferretti, Scrip, che parlano di questo libro. Fino adesso i video più interessanti che ho trovato qui su YouTube. Grazie per essere stati con me in questo video lunghissimo, spero interessante, con questa atmosfera che ho voluto lasciare così bassa perché mi sembrava la cosa più giusta. Alla prossima!